Benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa in cui parleremo di CSS. CSS rappresenta lo standard che permette di andare a definire quelle che sono le specificità di presentazione, di formattazione dei contenuti che descriviamo usando HTML. Quindi HTML e CSS sono due linguaggi complementari dove HTML permette di andare a definire i contenuti e CSS invece permette di andare a definire come questi contenuti vengono visualizzati e mostrati. Quali sono i vantaggi di avere questa separazione? Innanzitutto si evita la duplicazione, per cui se ho tanti elementi che devono essere formatati allo stesso modo, sostanzialmente mi basta applicare la stessa regola e automaticamente vengono tutti formattati. È più facile manutenerli perché ovviamente evitando la duplicazione, se io voglio fare una piccola modifica, la posso fare in un unico punto. Inoltre io posso andare a raccogliere tutti gli stili che mi interessano in un unico contenuto, in un unico file e riutilizzarlo più volte, ad esempio su più pagine, per avere ad esempio una visualizzazione che è omogenea all'interno di un unico sito. Come funziona CSS? Allora CSS è molto semplice, è fatto da un insieme di regole. Ogni regola è costituita da un selettore che identifica quali elementi HTML sono descritti da quella regola e da un blocco di dichiarazioni, dove ogni dichiarazione è essenzialmente una coppia proprietà due punti valore, dove la proprietà è una caratteristica visuale, ad esempio che sono il colore, la dimensione, il formato, il tipo di fonte, e il valore è il valore che vogliamo attribuire a quella specifica caratteristica visuale. Le regole sono descritte sostanzialmente in questo modo, quindi c'è un selettore, adesso vedremo di cosa si tratta, e poi un blocco di dichiarazioni racchiuse tra graffe e ogni dichiarazione è data dal nome della proprietà, due punti, il valore e poi un punto e virgola per terminare. I selettori possono essere di vari tipi, quelli di base fondamentali sono quelli che permettono di andare a identificare un tipo di elemento, ad esempio il selettore P identifica tutti gli elementi HTML che hanno come tag P, i selettori di classe con punto e il nome della classe che vanno a identificare tutti gli elementi che hanno un certo tipo di classe, e i selettori di identificatore con hash e il nome dell'identificatore che permettono di andare a definire le regole che si applicano all'elemento che ha quello specifico identificatore. Un minimo di distinzione tra cos'è una classe e che cos'è un identificatore. Allora, la classe è una categoria, un attributo che noi possiamo associare a degli elementi HTML utilizzando la parola chiave classe. Quindi, classe uguale e posso andare a elencare un insieme di classi che sono attribuite a quell'elemento. Per quanto riguarda gli identificatori, invece, è quel elemento unico che contraddistingue un particolare elemento all'interno di HTML e viene caratterizzato dall'attributo ID. Quindi, se in HTML metto ID uguale un certo valore, quello significa che quell'attributo è identificato in maniera univoca tramite quel identificatore. Io quindi posso andare a selezionare una classe e quindi normalmente vado a definire una regola per tutti gli elementi HTML che hanno quella classe, oppure posso utilizzare un identificatore e allora, in questo caso, visto che gli identificatori sono pensati per essere unici, vado a identificare uno specifico elemento all'interno della pagina HTML. Posso avere, ovviamente, delle combinazioni di selettori, per cui posso mettere delle virgole. Ad esempio, se vado a indicare P e LI, questo sostanzialmente va a definire un insieme di regole che si applicano sia agli elementi tipo P che agli elementi tipo LI. oppure posso fare una combinazione, ad esempio, posso fare P.warning, vuol dire che si applica a tutti gli elementi che hanno la classe warning e sono di tipo P. P eshquote vuol dire che P si applica agli elementi di tipo P che abbiano un ID che si chiama quote. Come faccio ad applicare le regole CSS al contenuto HTML? Allora, il primo modo, quello più facile, è di andare a utilizzare un elemento di tipo stile all'interno della pagina HTML e dentro questo elemento vado a elencare tutte le regole. Quindi vado a definire tutte le dichiarazioni, selettore, blocco di definizioni e vado via di questo passo. Un altro modo è quello di andare a memorizzare tutte le regole CSS in un file separato e poi utilizzare un elemento di tipo link, normalmente all'interno della head del documento. Oppure, infine, ultima possibilità, posso andare a aggiungere a un particolare elemento un attributo che si chiama style che il cui valore può contenere una serie di dichiarazioni, ovviamente qui non c'è più necessità del selettore perché l'elemento identificato è quello in cui vado a definire l'attributo, quindi il selettore non serve e ci sono soltanto le dichiarazioni, ovvero proprietà, due punti valore. Ecco qui un esempio di come posso andare a dichiarare una serie di permessi, scusate, di definizioni per un elemento di tipo P che abbia come identificatore warning. Questo elemento avrà come colore verde scuro, avrà come dimensione del fonte una dimensione che è il 200% rispetto alla dimensione normale, quindi il doppio, e avrà come font family un tipo di fonte che si chiama future. Per cui questo elemento da style a slash style racchiude una serie di regole CSS. Qui vedete che ho due elementi di tipo P, ovviamente la regola, questo selettore che vediamo in alto, si applica soltanto alla seconda perché la seconda ha come ID warning ed è A come tipo P, quindi P slash hash warning significa esattamente l'elemento di tipo P che ha come identificatore warning. Per cui se andiamo a visualizzare vediamo quello che compare qua sotto, quindi il primo paragrafo e poi il secondo con queste caratteristiche verde scuro, 200 doppio della dimensione e un certo tipo di font. Quest'altro invece è un esempio di come posso andare a definire lo stile sempre con un elemento style, ma questa volta invece di utilizzare un identificatore vado ad utilizzare una classe. Vedete che qui ho due regole, la prima ha come selettore P.L, vuol dire che si applica agli elementi di tipo P che hanno come classe L. La seconda è P.I, che vuol dire che si applica agli elementi di tipo P che hanno come classe I. Quindi in un caso andiamo a mettere un font di colore blu scuro, navi, e nell'altro andiamo a mettere un font un po' più grande. Ovviamente le classi possono essere non mutuamente esclusive, per cui se vedete in questi quattro elementi tipo P tutte hanno come classe L, mentre una ha come classe oltre a L anche I. Per cui la prima regola si applica a tutte le classi, a tutti gli elementi tipo P, mentre invece la seconda si applica soltanto all'elemento che oltre alla classe L possiede anche la classe I. Per cui il risultato è quello che vediamo qua. Qui i primi due paragrafi hanno come classe L e quindi avranno come colore blu scuro. La terza, oltre ad avere come classe L, ha anche come classe I, quindi si applicano entrambe le regole. E poi l'ultima di nuovo come classe semplicemente L e quindi semplicemente cambia il colore. Posso ovviamente andare a mettere uno stile esterno, quindi vado a mettere tutte le regole CSS all'interno di un documento separato che normalmente ha come estensione .css e nel head vado a mettere un tag che si chiama link che sostanzialmente avrà due attributi, un attributo rel che dice il tipo di relazione che esiste con quel file, in particolare stiamo a dire che quel file continua lo style sheet per questo documento, e poi l'href che sostanzialmente come per l'attributo di tipo A è il link al file, alla risorsa online che contiene i contenuti che dovranno essere interpretati come style sheet. Un altro modo di andare a fare riferimento a un documento esterno CSS è quello di utilizzare questa dichiarazione di tipo at import url e poi l'url del file che contiene il foglio di stile CSS. Quindi queste due dichiarazioni sono sostanzialmente analoghe, nel senso che entrambe fanno riferimento a un file esterno di tipo CSS per importare un insieme di dichiarazioni. Infine c'è quello che è lo stile inline, dove io posso andare a specificare con quell'attributo style, che vedete nella prima riga, una o più caratteristiche che voglio applicare a quello specifico elemento. È un po' equivalente a dire che quell'elemento ha un ID, e quindi ho un ID univoco, e poi nel CSS vado a identificare un selettore che faccia riferimento soltanto a quello stile. Questo è comodo soprattutto per fare delle prove perché mi permette di andare a indicare all'interno di un elemento quali sono le sue caratteristiche di visualizzazione. Ovviamente questo tipo di uso è contrario a quel principio che abbiamo menzionato all'inizio di distinzione netta tra quello che sono i contenuti HTML e quella che è la presentazione CSS. In ogni caso è comodo, come vi dicevo, per fare alcuni esempi, per cui vedete che questo primo capoverso ha come stile color a due punti dodger blu, ed è questo blu che vediamo qua sotto, e poi c'è un altro capoverso che non ha nessuno stile particolare, e poi c'è un elemento di enfasi che ha come stile background color a due punti red, e quindi in questo caso mette il colore di sfondo di questo elemento di tipo inline, vedete che continua sulla stessa linea degli altri elementi, degli altri contenuti del capoverso, come stile rosso. Quali sono gli attributi che io posso andare a modificare utilizzando le mie regole CSS? Allora, abbiamo menzionato negli ultimi esempi il colore, io posso utilizzare l'attributo color, oppure l'attributo per andare a definire il colore del testo di un elemento, oppure posso utilizzare background color o semplicemente background per andare a specificare quello che è il colore di sfondo di un elemento. Attenzione che quando applicamo, ad esempio, un colore di sfondo a un elemento di tipo block, ad esempio P, normalmente quel colore si applica a tutto l'elemento, e gli elementi di tipo block occupano tutta la larghezza di una pagina HTML. I colori possono essere definiti in vario modo, utilizzando il nome, utilizzando i componenti RGB, oppure andando a specificare i componenti HSL. Ecco qui un esempio in cui vado a specificare il colore di sfondo di questo elemento P, mettendo green, come vedete la larghezza è tutta la larghezza del documento, mentre invece se vado a mettere il colore di sfondo di un elemento di tipo B, che è un elemento in line, ecco, il colore di sfondo si applica esclusivamente alla larghezza di quell'elemento. Nomi dei colori. Allora, ci sono una serie di nomi predefiniti, che sono quelli che vediamo qua, per cui abbiamo 16 nomi di colori predefiniti, il bianco e il nero, il blu, il lime, il verde, il teal, davi, acqua, grey, silver, eccetera. Oltre a questi ci sono una serie di nomi molto più ampia che è disponibile a questo URL e che permette di andare a definire tante varietà di colori semplicemente andando a menzionare il nome. Ovviamente se invece di conoscere il nome voglio andare a descrivere nel dettaglio come è fatto un colore, lo posso fare ad esempio utilizzando le componenti rosso, verde e blu. Per specificare le componenti verde, rosso e blu posso utilizzare questa notazione con la funzione, quindi RGB con tre valori, tra 0 e 255, oppure la notazione esadecimale con un hash e poi sei cifre che prese a coppie vanno a identificare i valori dei tre componenti, verde, rosso e blu. Per cui il massimo rosso, 0 verde, 0 blu è questo, poi abbiamo il verde e poi abbiamo il blu. Vi faccio notare che questo, che è il verde brillante completo che abbiamo a disposizione, non corrisponde a quello che qui viene definito come verde, quindi il green HTML non è il verde brillante massimo. Un terzo modo di andare a descrivere i colori è utilizzando i tre parametri hue, saturation e lightness. Hue, ovvero la tinta, è sostanzialmente un'indicazione all'interno di quella che è una ruota di colori che permette di andare a identificare specificatamente la tinta. Quando parliamo di ruota di colori facciamo riferimento sostanzialmente a questo tipo di rappresentazione dove il verde e il rosso, scusate, è il primo elemento, quindi se andiamo a vedere in termini di angoli rispetto all'orizzontale, il rosso è a 0, il verde brillante è a 120 gradi, poi abbiamo il blu a 240 e i vari colori intermedi, per cui tornando verso 360, arriviamo di nuovo al rosso. Quindi su questa ruota io vado ad indicare un angolo che mi dice esattamente qual è il colore che vogliamo andare a rappresentare. Il secondo parametro è la saturazione che mi dice quanto il colore è saturo, passando in percentuale dallo 0 che sostanzialmente mi dà un livello di grigio in cui non ho nessuna notazione di colore, fino a un 100% con un colore pienamente saturo. La luminosità infine varia da 0 a 100 dove 0 è completamente nero, mentre invece 100 è il bianco. Per cui i tre colori di prima che corrispondevano a un rosso pieno, un verde pieno e un blu pieno possono essere rappresentati come 0, 120 e 240, quindi i tre angoli all'interno della ruota del colore, 100% in termini quindi di saturazione e poi una luminosità che è il 50%, perché se mettessi una luminosità 100% avrei sostanzialmente un colore bianco o comunque valori molto più chiari. Infine c'è la possibilità di andare a definire quella che è la trasparenza, per cui quando specifico RGB oppure HSL posso aggiungere un ulteriore parametro utilizzando delle funzioni che si chiamano RGBA e HSLA che vanno a specificare il parametro aggiuntivo che si chiama alfa. Alfa normalmente mi dice qual è il livello di trasparenza di un certo colore, dove 0 mi indica un colore completamente trasparente e 1 mi dice un colore completamente opaco, quindi normalmente se non specifico nulla si intende che un colore è completamente opaco e quindi corrisponde a un alfa uguale a 1. Posso anche andare a specificare esplicitamente un colore che è completamente trasparente, quindi sostanzialmente non mi interessa sapere se è rosso, verde, blu o quale saturazione ha, perché tanto è trasparente, quindi gli do semplicemente come nome transparent. Ecco qui c'è un piccolo esempio dove ho tre quadrati che hanno un livello di trasparenza pari al 33% con dei colori diversi, per cui il risultato è quello che vediamo qua sotto, con ovviamente il rosso che non è pieno perché è trasparente, quindi abbiamo sostanzialmente un terzo del colore che vediamo lì è dato dal rosso, due terzi è dato dal sfondo che in questo caso è un bianco. Stessa cosa per il verde oppure per il blu. E poi abbiamo qui ovviamente le varie intersezioni, i vari colori che sono dati dalla somma del bianco di sfondo più gli altri colori. Ovviamente questo qui in mezzo è quello più vicino a quello che dovrebbe essere un grigio-nero che è sostanzialmente la combinazione dei tre colori. Un'altra caratteristica che possiamo andare a definire per gli elementi è quello che si chiama il bordo. Per quanto riguarda il bordo io ho diversi aspetti. Ho quello che è lo spessore del bordo, quindi il contorno, se vogliamo, di un elemento, lo spessore, lo stile, che può essere nessuno, una linea continua, una linea punteggiata, una linea tratteggiata oppure una linea doppia. Quello che è il colore del bordo e infine quello che è il border radius. Perché? Perché molto spesso io posso voler andare ad avere sugli angoli del rettangolo che corrisponde al bordo di un elemento non due segmenti che si incontrano in maniera perpendicolare ma bensì una cosa arrotondata come possiamo vedere anche ad esempio qui sui bordi di questi elementi. Quindi qui ogni bordo ha un certo raggio più ampio a raggio più ampio sarà il frammento di circonferenza che viene utilizzato per andare a descrivere questo angolo. In generale io posso utilizzare oltre ai singoli elementi quindi spessore, stile, colore anche una notazione compatta che è quella che vediamo qua quindi ad esempio due punti solid black. Quando devo andare a specificare delle dimensioni ad esempio per lo spessore del bordo oppure anche solo per le dimensioni di un elemento posso utilizzare delle unità di misura. In particolare posso far riferimento a quelle che sono misure di lunghezza ad esempio pollici, centimetri o millimetri oppure posso utilizzare delle misure un po' più specifiche ad esempio quelli che si chiamano i pixel. I pixel sostanzialmente in CSS sono delle unità di misura che corrispondono a quello che io vedrei con una dimensione di un novantesimo di pollice a una distanza di 71 centimetri quindi è quella che è una display unit ovviamente non corrisponde a quello che è un pixel effettivo di un dispositivo perché questa è una dimensione fissa in termini di 71 centimetri di distanza dello schermo una certa larghezza quindi quella è la dimensione del pixel il pixel del nostro sistema di visualizzazione potrebbe essere diverso più grande o più piccolo a seconda di quella che è la risoluzione dello schermo e poi abbiamo quello che è un ponto che è uguale a un settantaduesimo di pollice ovviamente oltre a queste misure di lunghezza più standard o più specifiche per la visualizzazione posso andare a utilizzare anche quelle che sono delle misure relative che normalmente si riferiscono a quello che è l'elemento contenitore dell'elemento che sto andando a descrivere oltre a queste unità ho delle unità che fanno riferimento alle dimensioni dei caratteri quindi sono relative rispetto alle dimensioni dei caratteri ho ad esempio em che è la dimensione di una lettera sul testo quindi la larghezza e x che è l'altezza di una x minuscola quindi una mezza altezza di carattere ch che è sostanzialmente di quanto avanza la posizione sullo schermo quando io scrivo uno 0 quindi la larghezza dello 0 più lo spazio che lo contorna e rem che invece è equivale a m solo che invece di fare riferimento al font attivo nell'elemento in cui stiamo facendo delle definizioni si riferisce a quella che è la dimensione del font alla radice del nostro documento cioè a livello di body del nostro documento HTML a questo punto può avere senso andare a capire come funzionano le misure le dimensioni dei nostri elementi tutti gli elementi in HTML quindi in CSS rispondono a quello che è un documento un modello di scatole concentriche noi abbiamo allora nella parte centrale delle nostre scatole una dentro l'altra quello che si chiama il contenuto il contenuto è per l'appunto quanto noi andiamo a mettere dentro un elemento all'esterno del contenuto c'è una parte che si chiama padding che è ciò che separa il contenuto dal bordo il bordo che abbiamo visto prima possiamo andare a specificare in termini di spessore continuità colore eccetera all'esterno del bordo c'è un'altra area che è una larghezza che si chiama margin che distanzia il bordo del nostro elemento presente o non presente il bordo potrebbe essere ad esempio potrebbe avere una dimensione nulla e quindi non essere calcolato però sostanzialmente se io prendo il padding più lo spessore del bordo più il margine ecco quella è la distanza tra il contenuto del mio elemento e gli altri elementi che possono essere messi di sopra se stiamo parlando di elementi tipo block quindi uno sopra l'altro oppure uno di fianco all'altro se andiamo a parlare di elementi di tipo in line che quindi vengono concatenati uno con l'altro come ad esempio M strong eccetera ovviamente padding border e margin possono essere specificati in maniera diversa in funzione del lato a cui facciamo riferimento quindi il lato superiore top quello di destra quello inferiore bottom e quello di sinistra left quindi io posso andare a specificare ciascuno di questi tre elementi separatamente in funzione di quel lato a cui mi interessa fare riferimento per cui ad esempio io posso andare a definire un unico valore verde per il bordo 5 punti per il margine eccetera oppure posso aggiungere il suffisso top right bottom e left ad esempio margin top mi dice che il margine superiore del mio elemento è di 26 punti oppure invece di andare a specificare la posizione posso andare a elencarli tutti quindi se faccio border width 1, 2, 4, 8 significa che il primo elemento rappresenta il spessore del bordo superiore a destra sotto e infine a sinistra oppure posso andare a specificare soltanto due valori e in questo caso i due valori fanno riferimento ai valori sopra e sotto e sinistra e destra ovviamente posso comunque andare a specificare un dettaglio ulteriore ad esempio border left width questo mi va a identificare lo spessore del bordo a sinistra infine un'altra caratteristica che è importante per quanto andiamo a gestire i nostri elementi come vengono disposti come vengono distanziati dagli altri sono le due proprietà display e visibility display sostanzialmente è quello che mi permette di andare a capire se voglio mostrare un elemento e come lo voglio mostrare posso avere il valore none che mi dice che perché quell'elemento non viene mostrato è come se non ci fosse scompare può essere di tipo block ad esempio elementi di tipo p oppure h quindi vuol dire che prima e dopo il nostro elemento c'è un salto di linea quindi gli elementi vengono messi uno sotto l'altro oppure in line che vuol dire che gli elementi vengono messi uno di fianco all'altro finché non si raggiunge il margine destro e a quel punto si va a capo infine c'è un'altra variante che è quella che si chiama in line block in cui sostanzialmente quello che faccio è andare a mettere andare ad adottare una disposizione analoga a quella di in line l'unica differenza è che quando utilizzo in line io non ho la possibilità di specificare quelli che sono la larghezza e l'altezza degli elementi perché larghezza e altezza dell'elemento dipendono dal suo contenuto quindi se ho un elemento em di enfasi la dimensione di quello dipende dai caratteri che ci metto dentro l'alternativa è utilizzare un elemento in line block in cui io posso andare a specificare le dimensioni quindi altezza e larghezza che potrebbero essere assolutamente indipendenti rispetto a quello che è il contenuto inoltre l'elemento viene disposto utilizzando una strategia in line quindi sostanzialmente mettendo gli elementi uno dopo l'altro finché raggiungo il margine destro oltre a display c'è un'altra proprietà che è quella di visibilità che può essere hidden o visible la differenza tra i due è che sostanzialmente quando parlo di visibilità e dico hidden l'elemento è presente sullo schermo soltanto che non è visibile è come se fosse completamente trasparente ecco qui un esempio di come possiamo andare a specificare i bordi e i padding nel nostro caso specifico abbiamo un border width che è 2, 6, 8 e 16 punti quei quattro numeri fanno riferimento al bordo superiore destro inferiore e sinistro border color anche qui abbiamo quattro livelli diversi orange green purple e grey di nuovo fanno riferimento ai lati superiore destro inferiore e sinistro e poi abbiamo un border style in cui abbiamo dotted e solid che vuol dire che avremo come stile puntinato sopra e sotto e come stile di linea continua destra e sinistra infine abbiamo un padding che è 0, 10, 20, 40 che di nuovo fanno riferimento ai quattro lati del nostro elemento a questo punto cosa vediamo quando andiamo a mostrare questo contenuto ecco quello che noi possiamo andare a visualizzare vedete che ho un border width quindi ho 2, 6, 8 e 16 quindi lo spessore del bordo è chiaro i colori sono arancione verde viola e grigio sopra e sotto sono dotted sinistra e destra sono solid e poi abbiamo il padding 0 sopra 10 punti a destra 20 punti sotto e 40 punti a sinistra una cosa che notiamo immediatamente è che sebbene io abbia specificato dei padding significativi e anche degli spessori dei margini del bordo scusate abbastanza ampio insomma 16 punti è tanto vedete che equivale quasi a una lettera questi bordi vengono disegnati sovrapposti ad esempio alla linea che sta sotto perché perché come vi dicevo prima quando io ho un elemento in line la dimensione dell'elemento in line viene considerata pari a quello che è la dimensione del testo l'unica cosa che effettivamente influenza sono i padding di sinistra e di destra i padding superiori non vengono tenuti in considerazione perché per l'appunto per un elemento in line questi vengono ignorati in termini di calcolo dello spazio occupato per cui vedete che la linea sotto non va giù quanto dovrebbe ma va giù di meno va giù di uno spazio che è proporzionale all'altezza di questo testo escluso il padding inferiore e il bordo inferiore se io voglio andare a gestire questo elemento andando ad aggiungere dello spazio anche in verticale corrispondente allo spessore dei bordi e al padding quello che posso fare è andare a indicare che il display di questo tipo di elemento non è più in line ma bensì in line block come in questo caso dove vedete che finalmente ho aggiunto molto più spazio o meglio il motore di rendering del browser ha raggiunto molto più spazio perché essendo questo elemento b con display in line block il risultato è che la linea complessiva tiene conto lo spessore dell'altezza di questa parola che sarà normale più di questo elemento b che però a questo punto essendo in line block terrà conto per calcolare le proprie dimensioni di tutti gli spessori del bordo piuttosto che del padding eccoci a questo punto a parlare di quello che invece è l'altra caratteristica degli elementi che ovviamente dicevo non è influenzata quando ho degli elementi in line ma invece può essere specificata bene se ho degli elementi tipo blocco oppure in line block ed è data da altezza e larghezza quello che posso fare è ovviamente mettere un'auto e quindi il browser calcola lui la dimensione in base normalmente ai contenuti dell'elemento mettere delle misure specifiche o mettere una percentuale che normalmente è una misura relativa a quello che è l'elemento contenitore per cui se vado a specificare che sono una tabella che si trova direttamente all'interno del body la percentuale di larghezza ad esempio è una percentuale rispetto al body quindi a tutto il documento quindi avrò una dimensione che è funzione della larghezza complessiva della pagina quindi cambiando la dimensione della pagina ad esempio ridimensionando il browser quello che ottengo è di avere un ridimensionamento anche dell'elemento specifico oltre a questo io ho un'opzione di andare a specificare quello che è un max width che è ovvero la dimensione massima a cui può essere possibile andare a ridimensionare un elemento questo è utile se io voglio evitare che un elemento diventi troppo largo troppo grande e quindi metto una dimensione massima ovviamente posso mettere max width uguale due punti none indicando che non c'è nessun massimo e quindi l'elemento si può ridimensionare finché vogliamo abbiamo poi alcune proprietà relative al testo ad esempio abbiamo text align che mi dice se voglio allineato sinistra destra giustificato text decoration underline overline e line through oppure none ovviamente text transform quindi posso andare a dire uppercase lowercase o capitalize quindi automaticamente il testo viene modificato text indent che mi dice di quanto viene indentato il testo e line 8 che mi dice qual è l'interlinea delle linee che vado a scrivere attenzione che l'interlinea è diverso da quello che è la distanza tra un capoverso e l'altro perché l'interlinea è all'interno ad esempio di un capoverso mentre invece la distanza tra un capoverso e l'altro è dato sostanzialmente da quello che è il margine superiore inferiore degli elementi di tipo P ovviamente posso andare a specificare quello che è il font quindi innanzitutto font family in generale posso andare a specificare il nome specifico di un font ma posso anche utilizzare ad esempio serif per i font con le grazie tipo il times roman oppure sans serif per i font senza grafiche ad esempio l'area o il font che ad esempio utilizziamo in queste slide abbiamo un font style che ci dà il tipo di stile normale italico oppure obliquo la variante di font che potrebbe essere normale oppure small caps ovvero tutto maiuscolo ma le iniziali più grandi quindi quello che si chiama maiuscoletto il peso del font quindi quanto è spesso il tratto normale bold bolder lighter oppure un numero dove il peso 400 significa che è un font normale un peso 700 è bold ma arriviamo fino a 900 ad esempio e font size quindi la dimensione generale del font quindi da medium small xx small eccetera eccetera oppure per cento che si riferisce alla dimensione del font che viene definito nel elemento contenitore posso andare a definire quelli che sono le caratteristiche delle liste ad esempio il list style type mi permette di andare a definire qual è il tipo di elemento che uso per andare a elencare le liste ordinate per cui disk circle square oppure none vedete qui ho un disk per liste ordinate posso andare a mettere i numeri decimali mettere delle lettere mettere le lettere la numerazione romana con lettere minuscole maiuscole eccetera posso andare a specificare dove è la posizione del punto che può essere esterno a quella che è la linea oppure interno e quindi sostanzialmente viene spostato in là e posso avere anche quello che si chiama un list style image andando a specificare non un simbolo predefinito ad esempio disk circle eccetera ma bensì una vera e propria immagine che quindi può andare a modificare l'apparenza di una lista qui abbiamo un esempio di lista non numerata dove il primo elemento usa i numeri romani per cui abbiamo upper roman mi dice di utilizzare lettere romane maiuscole 1 2 3 4 vedete che inoltre l'ultimo elemento ha list style position inside mentre prima è outside in questo caso rispetto alla linea immaginaria a cui vengono allineati tutti i punti ecco in questo caso il numero o l'elemento viene messo a destra di questa linea qualche informazione in più su quelli che sono i selettori un po' più complessi in generale quando io ho due selettori ad esempio a ed e vado a identificare elementi e che si trovano all'interno quindi sono dei discendenti all'interno dell'albero dell'HTML di A posso anche utilizzare il maggiore che mi sta a indicare che E non è un discendente qualunque ma deve essere un figlio immediato di A posso utilizzare B più E dove indichiamo che E deve essere un fratello immediato di B cioè l'elemento che immediatamente segue oppure un qualunque fratello quindi sono sullo stesso elemento si trovano all'interno dello stesso contenitore qui ci abbiamo un esempio in cui vediamo che la prima regola va a prendere la sezione che ha una classe che si chiama E e mette il colore del carattere arancione la seconda formulazione sebbene possa sembrare molto simile in realtà ha uno spazio interno e lo spazio viene interpretato come discendente di quindi il colore purple si applica a tutti gli elementi vedete che qui ho soltanto il nome della classe non ho il nome dell'elemento tutti gli elementi che si trovano dentro un elemento di tipo section elementi che abbiano una classe E terza variante invece di avere uno spazio ho il simbolo di maggiore quindi quest'ultima regola quindi il bordo di due punti si applica a tutti gli elementi che abbiano come classe E e che si trovino come figli diretti di un elemento di tipo section quindi vedete nel primo caso section class E section with class ho una sezione con classe E quindi arancione il secondo caso vedete che ho questo M con classe E che non è un figlio diretto della sezione perché si trova all'interno a sua volta di un capoverso e per cui a questo viene applicato soltanto la seconda regola il terzo oltre a essere un discendente è anche un figlio diretto della sezione e per cui si applica oltre alla seconda regola anche la terza per quanto riguarda figli io posso utilizzare quelli che si chiamano dei meta selettori ovvero posso utilizzare due punti first child due punti last child and child oppure only child e questo mi permette di andare a specificare il primo figlio l'ultimo o il figlio con un certo numero questo n può essere ovviamente un numero oppure semplice oppure può essere un'espressione del tipo odd even oppure 2n più 1 3n più 5 quindi qualunque tipo di notazione dove n è un numero che va da 0 fino al numero di righe esempio di come funzionano i meta selettori relativi ai figli vediamo che qui gli stili si applicano a tutti gli elementi che sono primi figli all'interno di elementi che hanno come classe C quindi qui abbiamo la classe C l'elemento che è un primo figlio avrà come bordo il bordo di un di un punto i figli dispari avranno come colore orange i figli che rispettano questa regola cioè 3n quindi ogni terzo figlio avranno come background color tan che è questo colore qua e invece il last child avrà come bordo un punto ma a questo punto tratteggiato per cui vediamo che il primo figlio ha un bordo continuo l'ultimo figlio ha un bordo tratteggiato il terzo e il sesto elemento hanno il background e il colore dark orange si applica ai figli dispari e quindi abbiamo 0 2 3 e scusate 1 2 3 4 5 6 e 7 quindi i figli con numero dispari un altro metaselettore quelle che vengono chiamate pseudoclassi sono ad esempio link che si applica ai link visited active eppure eppure hover i primi tre si applicano ai link semplicemente in quanto link in quanto link visitati o in quanto di link attivi cioè nel momento in cui li clicco hover invece fa riferimento agli elementi su cui sto passando in quel momento il puntatore del mouse esempio qui vediamo tre regole agli elementi quindi il selettore link agli elementi che si trovano dentro elementi con classe con classe P elementi tipo visited sempre dentro chi ha una classe P e hover sempre dentro elementi contenuti dentro elementi con classe P il primo ha un colore arancione il secondo ha un colore grigio e il terzo ha un background giallo per cui quello che ottengo è quello che vediamo qua vedete che il primo link che sostanzialmente fa riferimento appolito.it è grigio quindi un link già visitato il secondo che è un sito che non esiste ovviamente è un sito non visitato e poi hover semplicemente viene attivato nel momento in cui io passo col puntatore sopra l'elemento quindi se io vado su questo elemento diventa giallo diventa giallo ovviamente anche questo elemento che non è un link ha un colore giallo e poi ho questo elemento che di nuovo diventa giallo vedete che io comunque qui ho utilizzato un tipo di elemento fake che non esiste in html non è definito ma ovviamente css mi permette di andare a utilizzare qualunque tipo di elemento non importa se sia ufficialmente definito in html oppure no infine ho una serie di selettori che mi permettono di andare a scegliere gli elementi che abbiano un certo attributo che abbiano un certo attributo uguale a un valore che abbiano un certo attributo che inizia con un certo valore che abbiano un certo attributo che termina con un altro valore oppure che abbiano un attributo che contiene una sottostringa CSS, abbiamo detto, si riferisce a un acronimo che sta per Cascaded Style Sheet. Cosa significa questo cascade? Sostanzialmente io posso avere tante fonti diverse che mi vanno a definire quelli che sono gli attributi degli elementi di un file HTML. Quindi ho una cascata di tanti stili diversi che possono avere un'origine diversa. Ad esempio posso avere quelli che sono gli style sheet user agent, ovvero quelli predefiniti dal browser, gli style sheet definiti dall'autore, ovvero quelli definiti da chi sta scrivendo il CSS e l'HTML, ma ci possono anche essere quelli che si chiamano user style sheet, per cui è possibile andare a definire degli style sheet specifici, personali, che vengono applicati dal browser a valle di tutti gli altri. Inoltre CSS definisce quella che si chiama una specificità, che è un ordine con cui le regole sono più o meno importanti. Ovviamente il massimo livello di specificità ce l'hanno gli attributi che sono definiti all'interno dell'attributo style di un elemento, sono applicati a quello. Il secondo livello sono gli attributi specificati con un riferimento di tipo id, quindi fanno riferimento a uno specifico elemento nuovamente con il suo identificatore. Poi abbiamo altri selettori di attributi, ad esempio anche quelli con il punto per la classe, e poi abbiamo i selettori che fanno semplicemente riferimento al nome di un certo tipo di elemento, ad esempio P. La regola che viene applicata, che si chiama l'algoritmo di cascading, è quello che viene utilizzato per andare a definire quale proprietà viene applicata se io ho più valori che fanno riferimento alla stessa proprietà ovviamente in sorgenti diverse. Allora innanzitutto tutte le regole vengono ordinate e poi innanzitutto si mettono quelle che hanno il suffisso punto esclamativo important che dovrebbe essere utilizzato con molta parsimonia, poi vengono ordinate in base alla sorgente, per cui prima quelle dell'utente, poi quelle degli autori e infine quelle dello user-agente, poi in termini di specificità, quindi di nuovo se io ho un elemento style quello prende la priorità rispetto a degli altri, e poi ho l'ordine di dichiarazione dove l'ultima dichiarazione di solito è quella che ha la priorità su quelle precedenti, quindi se io ho un attributo definito più volte l'ultima definizione è quella che conta. Infine può essere utile sapere che ci sono tanti attributi, qui ve ne menziono qualcuno, ad esempio sulle tabelle io posso andare a definire ad esempio i bordi per gli elementi table, table header o table data, c'è poi un attributo specifico che posso andare a utilizzare per le tabelle che si chiama border collapse e che può avere il valore collapse e in tale caso i bordi di due celle contigue vengono fusi, invece di essere rappresentati uno di fianco all'altro vengono fusi e quindi ho semplicemente una linea unica che separa due celle, invece di avere due linee che vengono date dal bordo. Ovviamente posso avere anche height and width che mi danno l'altezza e la larghezza di una tabella e possono essere specificate sia in termini assoluti che in termini di percentuale. ecco qui ad esempio ho un esempio di tabella dove vado a specificare tutte le righe con un colore di sfondo lime, che è il verde chiaro, e poi vado a definire che le righe dispari hanno come colore di sfondo yellow. qui vedete che la seconda regola ha una specificità più alta perché non ha semplicemente un nome di elemento ma ha anche un selettore di classe se vogliamo, in realtà qui è il numero di figlio, e quindi questa regola del giallo ha la priorità su quella del lime per tutte le righe a cui si applica, ovvero per tutte le righe dispari. per cui tutte le righe hanno lime tranne quelle dispari 1 e 3 che hanno invece un come colore giallo. Alcuni elementi possono essere dichiarati come floating per cui l'attributo, la proprietà float può essere none, left, right e quindi vuol dire che l'elemento è messo lì, che galleggia all'interno della nostra pagina, è al di fuori di quello che è il normale disposizione degli elementi, uno di fianco all'altro per gli inline e uno sotto l'altro per gli elementi tipo block, questo elemento è lì e adesso è stante e gli altri elementi li girano attorno. Per cui può stare a sinistra, può stare a destra e ovviamente ho anche la possibilità di andare a specificare che io non voglio nessun elemento a sinistra, a destra oppure su entrambi i lati, quindi voglio che sia libero sui due lati. Quando io ho un elemento di tipo float, normalmente quell'elemento non conta all'interno del suo contenitore per le dimensioni, proprio perché è messo separato e quindi tutti gli altri elementi li girano attorno. Per cui normalmente se l'elemento di tipo float è molto lungo, il suo contenitore potrebbe essere più piccolo e quindi tagliare fuori parte del contenuto. Per cui se voglio andare a tenere conto anche degli elementi float, devo andare a dire che il contenitore avrà una proprietà overflow a livello auto e questo automaticamente adatta le dimensioni del contenitore anche agli elementi tipo float. Esempio, qui abbiamo un elemento float che è questo con la linea tratteggiata che si trova dentro l'elemento con il bordo viola. Vedete che ovviamente va in overflow, supera le dimensioni del suo contenitore. L'altro elemento, questo qui, arancione, sostanzialmente ha i contenuti che stanno all'esterno di quello che è il nostro elemento di tipo float. L'altra variante è questa dove ho specificato overflow auto per cui il mio contenitore, questo con il bordo viola, a questo punto tiene conto nel calcolo delle sue dimensioni anche dell'elemento float e quindi lo include al suo interno. Infine posso andare a specificare quella che è la posizione di un elemento. La posizione può essere statica, quindi ho una posizione specifica all'interno della mia pagina. Relativa, quindi normalmente il mio elemento viene messo subito dopo quello precedente. Può essere fissa e quindi all'interno della pagina il mio elemento sta in una certa posizione ed è sempre lì. Quindi rispetto a tutto il resto del contenuto che può scorrere in avanti, indietro, a destra o a sinistra, quello resta sempre lì, in posizione. Oppure posso avere una posizione assoluta. La posizione assoluta di solito si riferisce a quello che è il contenitore. Quindi se il mio contenitore è posizionato in una certa posizione della pagina, ecco l'elemento al suo interno con posizione assoluta starà sempre nella stessa posizione rispetto al proprio contenitore. C'è anche un'altra possibilità che è quello che si chiama sticky, ovvero resta sempre visibile. Quindi la posizione è quella che si chiama relative, quindi lo posiziono normalmente come tutti gli altri, però se scorro e questo elemento raggiunge il bordo della pagina, automaticamente da quel punto, da quel momento lì in poi diventa fixed e quindi resta in quella posizione lì anche se il resto del contenuto scorre. Oltre a questa posizione, che sostanzialmente suggerisce al browser la regola con cui andare a posizionare l'elemento, io posso andare a specificare i parametri top, bottom, left e right che mi danno la distanza del mio elemento rispetto a quello che sta sopra, sotto, sinistra o destra. E' ovvio che se io vado a specificare esclusivamente la proprietà bottom, il mio elemento sarà messo in fondo e avrà una certa distanza a quello che ho specificato rispetto agli elementi che seguono. Qui abbiamo un esempio di come possiamo andare a definire un header. Vedete che qui in alto ho una classe myHeader, che è quella che andrò ad applicare agli header. Ho una posizione che è assoluta e quindi fa riferimento a quello che è il suo contenitore. Top 0 punti, quindi sostanzialmente è in corrispondenza all'elemento e all'inizio. Left e right uguale a 0, quindi vuol dire che la distanza dal margine destro e dal margine sinistro del mio contenitore è 0, quindi è completa tutta la larghezza del mio contenitore. Margin top 0, quindi non c'è nessun margine e ho un'altezza di 25 punti e un bordo di un punto arancione, linea continua. Il body, quindi la classe myBody, la applico al contenitore, per cui dico che è una posizione relativa, questo perché quando specifico absolute questo fa riferimento al suo contenitore più prossimo che abbia come posizione relative. E poi ha un padding top uguale a 25 punti. Vedete che questo padding equivale all'altezza in modo che tutto il resto del contenuto dentro il mio body sia spostato di 25 punti, ovvero non vada a finire sovrapposto a quello che è il mio header. Per cui in questo caso ho il mio body che ha come classe myBody e poi ho una serie di elementi e ho un header che ha la classe myHeader. A questo punto quello che ottengo è sostanzialmente quello che vedete qua, dove ovviamente il mio header è messo in alto, ha come posizione top 0, quindi sta attaccato all'inizio del mio elemento e man mano che scorro ho ovviamente l'header che resta sempre nella stessa posizione. Con questo abbiamo chiuso un po' di panoramica su quelli che sono gli attributi CSS. Giusto per ricapitolare abbiamo detto quindi che CSS è il meccanismo con cui io posso andare a definire il modo in cui andare a visualizzare i contenuti che sono descritti in un file HTML, e la descrizione viene fatta in termini di regole, dove la regola è fatta da un selettore e da un insieme di dichiarazioni che sostanzialmente assegnano a una proprietà un valore. Quelle proprietà rappresentano gli aspetti visuali o di layout, mentre invece il valore dice qual è la caratteristica che voglio andare ad applicare all'elemento selezionato con questo meccanismo.